Senatore, approvato il decreto Balduzzi che permette la sperimentazione sull'uso delle staminali, la Liga Nord, che parere ha dato? Abbiamo dato un parere favorevole al provvedimento in sé, in quanto alla fine comunque in ogni caso è un punto di partenza rispetto a un passato di incertezza totale. Certamente non deve essere delusa la speranza di coloro che attendono dalle staminali una soluzione e nello stesso tempo, cosa che è stata poi modificata nel passaggio alla camera, è giusto che ci siano anche delle certezze scientifiche e un rigore nell'applicare le sperimentazioni. Sperimentare è giusto, bisogna farlo però con la certezza che quello che viene fatto sui pazienti non produca danni e in parallelo che ciò che viene sperimentato domani possa essere, se fruttuoso, utilizzato anche da altri e quindi si passi velocemente dalla sperimentazione alla cura. In sé stesso il decreto è estremamente complesso, soprattutto per una tematica che necessita di grande approfondimento. Con questo, come si è detto in Parlamento e durante il dibattito, non ci si può dire soddisfatti completamente, però almeno abbiamo fatto qualcosa di buono. Non sarà totalmente completo il tema, ma sarà sicuramente un punto di partenza sul quale, come è stato poi chiesto al Governo, ci deve essere un confronto costante, dando la possibilità a coloro che hanno iniziato la procedura di sperimentazione di completarle e a coloro che vogliono accedervi di farlo con la massima serietà scientifica. Non è compreso però il criterio Vanoni? Il criterio Vanoni in questo caso resta ancora da sondare, perché durante le audizioni che si sono tenute alla Camera dei Deputati non c'è stata una complessiva, positiva affermazione di questa validità. In sé stesso il metodo non produce danno, ma certamente resta da valutare quanto possa produrre di beneficio. Noi non possiamo oggi dare alle persone una semplice speranza data sul nulla. Bisogna dare la certezza che queste terapie possano essere scientificamente valide. Le cellule staminali mesenchimali e quelli pluripotenti sono una grande porta sul futuro della scienza, soprattutto sul futuro della cura delle malattie rare e delle malattie neurodegenerative. Non ci si può approssimare su questo tema con la facilità di chi tira una riga e dice questo è bene e questo è male. Occorre dal punto di vista scientifico avere delle certezze, soprattutto che si possano poi iniziare oltre alle sperimentazioni delle cure, che non siano quindi rivolte a singoli casi, ma che possano essere applicate su larga scala. Grazie a tutti.